Io sono Lucia Ghedin, sono un funzionario restauratore dell'Istituto Centrale per la Grafica e sono responsabile anche, oltre che del restauro delle matrici calcografiche, anche di questa stamperia. Questa è la stamperia dell'Istituto Centrale per la Grafica ed è un luogo storico, un luogo che ha accolto nel tempo un'officina che effettivamente realizzava le stampe dalle matrici della nostra collezione per la vendita. E in questo momento storico in cui il restauro è di tipo conservativo, le matrici non sono più stampate per commigializzare il foglio di carta ottenuto, ma soprattutto per essere valorizzate e quindi l'attività all'interno della stamperia si è modificata. Lavoro con gli artisti, lavoro su repliche precise delle matrici originali e collaborazione anche con i programmi di alternanza scuola-lavoro.